Ragazzi, pronti, Tishon vs Master Raven vs The Phantom Both of these players will use Master Raven Probably, we don't really know Phantom is using a DualShock 4, Ox, to Tishon vs Master Raven No, 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 Phantom is using a DualShock 4, not a DualShock 3 And Tishon is using an old PS3 Yeah Do you need help? Ok Ok The board is setting up The buttons, button checking I don't know, right? I don't know 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 We go for a handshake And we are ready for this 3, 2, 3 You've already put it in the back You've already put it in the back The right is what you see So? This So, the names are right So, the names? Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go No интересно perché la chat lo capisce La chat non sa chi siano Asciut to shift mi premio shift Aspetta, lascio No, ah s no, go Agacки jag small Okay Ok, chi è che ha premuto? Sì, il phantom è il rosso. Ok, va a volcarri? No, è troppo vicino alla wall. Buongiorno, ma non converte in un combo full. Buongiorno evasione, buongiorno evasione. Ok, la spazio. Buongiorno 404-3 dal phantom. Ok, la move di backdance. 404-2, ancora 404-4. Buongiorno 404-4. Back turn mix-up. Ma non stanno raggiando così veloci, difficile parlare. Ok, qual'è il mix-up? Per il low, ma Tishimon lo sa. Tishimon stop smasso. Sì, puoi sentire Tishimon's button inputs. Sì, puoi. Scenario! Buongiorno controllo. Quasi tra solo bata. Buongiorno controllo pollo ureso. Buongiornolocko di Tishimon. Buongiorno, questo passo note. Buongiornoe porte장, quindi quei miei di Ravemi. Il damage in Juggles è vero. Il damage in Juggles è davvero alto. E tutti conoscono come fare un combo davvero davvero. Kishimon è in un match. Un match davvero rapido. Top 12. Cominciando la mission. Perché state cambiate? Perché probabilmente il Phantom non è comforzato con l'ultima stage. Non era comforzato. O magari per prendere il tempo per pensare. Raga voi cosa vedete? Vedete il match con i punteggi? Non si capisce nulla del mirror di Master Raven ma non è che sia un errore nostro. Nice teleport. Nice punish. From Tishimon. Si può passare un po' la... Eh ma adesso ma mica la vedo. Ma loro guarda come lo conoscete. No, quello a destra. Non sono sicuro. Infatti glielo ho chiesto a Richard. Si si vede. Il punteggio? Il punteggio? Il punteggio? Il punteggio? Il punteggio? Non sappiamo se il layout è giusto. Ma questa non è mia. Ma che cazzo? La tua è finita. Si cosa? Quale si vede? Quella con i punteggi o quella con le webcam? Voi vedete il layout con le webcam o il layout con i punteggi? Credo quello con i punteggi. Il punteggio? Che il punteggio? Ahahahahahahha. Grande gara. Ok a posto. Ok a posto. Ho ragione io. Ah boh ma è da prima che sto facendo. Non for 3 pressure. Sì, questi match erano davvero veloce, si andranno davvero veloce Si, hanno diversi stili di Master Raven Sì, perché non è il colpa mia, però è il colpito che c'è il colpito D4-3, buona duck dal Phantom Ok, all carry Non molto buona combo Buona backback 2, buona conversione Buona block dal Tishemon 4-1 Non ducking Buona punizione con 2-4 Buona, 4-4-2 Buona Tu dici troppo buona Troppo Troppo Sì I nomi sono in modo falsa Non credo No, il Phantom è il Red Raven Phantom è il Red Raven Tishemon è il blu Tishemon è il blu 4-4 Vol carry? Sì Un buon vol carry Ah, bene Ah, è stato troppo Ah, 4-4 Sembra come Omega Rufi e Alpha Sapphire Sì, è proprio È il Pokémon Sì Sì, ma non va Sì 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 Molto pari 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 Cosa è un mixup? Sì, 1-2 Non back4, buona Spanich Raven ha un realzo da 4-4 Oh, ho avuto il combo 1-2 Up 4-4 Up 4-4 Wift Ok, quindi stanno spazionando l'altro Sì Sì, si sta lungo Oh, con il Rage Drive Sì, è un combo con il Rage Drive Sì, è garantito Sì 2 damage 2 damage 2 damage Il crowd è con il Phantom Sì, il Phantom è il terzo del crowd Ci deve combattere, Rai Ha 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 Soledità Ha 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 Come stanno spazionando l'altro dal Phantom? Sì 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 Molto pari Oh Vediamo Oh Buon pari Buon pari Tishmon con il River of Out Oh Il Phantom lo prende Il primo match Il set 2-1 2-1 Tishmon bella la acqua Il prego Il prego Il prego Il prego Il prego 4-1 4 2-1 4-2 4-2 1-1 3-1 2-2 4-2 4-2 4-1 5-1 5-1 6-1 6-1 1-2 It's gonna kill 1-2 Sì, è. Frontino che tiffa per The Phantom. Intenta di punirlo. Buona duck, sul 4-1. E si va a prendere la palla? No, troppo lì. Il blu è Shimon, il rosso è... Undertaker trover! Si va a prendere la palla. 4-4-2. Il Phantom ha la palla, quindi è molto pericoloso per The Shimon. Oh, troppo lì per punirlo! 1-2, 8 secondi per andare! Buona punizione per il 4-4! 4 secondi per il 3-2, 1! No! Buona punizione per il 4-4! No! Un secondo per il 4-4! Wow! Buona punizione per il 4-4! Non c'è il 4-1 per il 3-4! Non c'è il 4-1 per il 3-4! Non c'è il 4-1 per il 4-4! Ah, troppo lì! Ok! Un secondo per il 4-1 per il 3-4! Ok! OOOH! Un cambio! Un cambio! Tuttavia per fare il 4-4-4, ma... Un cambio! Un cambio! non è che il 70 non è che il 70 questo è il 14 questo è il 14 wow è il giugno e il fantom si converte si lo prende si lo prende è una falla da Tishimon Tishimon lo stia oh, break dance slow break dance slow andertaker throw andertaker throw they both do the same amount of fire wow with the reed on the low non enough down back 4, down back 4 again wow 2 teams what a match what a match come back come back come back come back come back no punish from the phantom i phantom è tuo i 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